Che cosa sono le correnti marine? Come si formano? Quali sono quelle stagionali? Quali sono quelle date dal vento, dalle maree? Abbiamo visto nel video precedente, se non l'avete visto schiacciate qua, vi metto un link, datevi a vedere qual è il momento migliore, il periodo migliore per pescare, quindi calcolare maree, lune e quant'altro. Una cosa molto importante per la pesca, quindi per farvi fare questo fish level up, questo saltino di qualità in più nella pesca, è quello di comprendere a pieno le correnti. In questo video vedremo appunto come si formano, come si apprezzano, quindi come si capisce che tipo di corrente ci sia e più o meno anche la velocità della corrente. Un'analisi completa delle correnti, la cui comprensione è veramente molto importante per riuscire a pescare di più e pescare meglio. Prima di svelarti tutto quello che so sulle correnti marine però devo dirti una cosa, se è la prima volta che vedi il mio faccione mi presento, sono Stefano Adami e sono una guida di pesca sportiva. Opero in Sardegna, per la precisione a Palau, dove puoi venire tranquillamente a pescare con me scrivendo qua sotto oppure contattandomi su www.stefanadami.it e ho questo canale youtube che ti trovi in questo momento al quale io ti invito ad iscriverti perché ci sono un sacco di video interessanti. Ti parlo di pesca, ti parlo di attrezzature, ti parlo di elettronica di bordo e ovviamente anche di pesca dal punto di vista teorico che è una cosa che in pochi fanno e credo che sia una cosa molto molto interessante. Quindi non perdere tempo, qua sotto c'è un pulsante, schiaccia il pulsante iscriviti, di fianco c'è una campanella attiva, tutte le notifiche per il mio canale. Non vorrei che poi ti perdessi qualche video interessante che potrebbe cambiarti la pescata. E adesso ci facciamo un piccolo viaggio nelle correnti marine. Le correnti marine sono spostamenti orizzontali di grandi masse d'acqua generate da un moto continuo e lento e possono derivare dai seguenti fattori. 1. La tendenza dell'acqua a ristabilire l'equilibrio idrostatico per effetto di insolazione, temperatura, salinità o densità. In sostanza la differenza di uno di questi fattori fa sì che le diverse masse d'acqua generino un movimento da una massa all'altra per compensarsi. Secondo fattore è l'azione della rotazione terrestre e i movimenti di marea che determinano il senso in cui le masse d'acqua circolano. Ma come sono caratterizzate le correnti? Le correnti vengono caratterizzate per temperatura, quindi calde o fredde, per profondità, quindi correnti di superficie o correnti di fondo, per variabilità, quindi le periodiche, ad esempio la marea, permanenti come ad esempio la corrente del golfo che è una corrente permanente, stagionali come ad esempio le correnti monsoniche che espirano a seconda di come tirano i monsoni, e quelle irregolari che solitamente sono formate dalle perturbazioni. Ma vediamo adesso i tipi di correnti. Le tipologie di correnti derivano dalla causa che li genera, quindi l'azione del vento causa le correnti di deriva, l'azione di marea genera le correnti di maree. Una differenza delle proprietà chimiche, per esempio la salinità, o fisiche, per esempio la temperatura di due mari confinanti, generano le correnti di gradiente. Sì, va bene, tutto molto bello Stefano, ma quali sono le correnti che influiscono di più sulla pesca? Le vediamo subito. Allora, la prima è la corrente di deriva, che è causata dal vento. Pensate che riesce a penetrare gli strati d'acqua fino anche a 100 metri di profondità, però ricordatevi che si smorza in maniera esponenziale, quindi molto rapidamente. La cosa più importante da sapere è che lo strato superficiale dell'acqua non si muove mai, e questo è importantissimo ragazzi, ci verrà utile anche tra poco, quindi memorizzate questo fattore, non si muove nella direzione del vento, bensì con un angolo compreso tra i 45 e i 90 gradi rispetto al vento stesso. Un'altra corrente importantissima è la corrente di marea, che però può essere di due tipi. Quella rotatoria, che è tipica delle acque molto profonde, in zone dove l'acqua non incontra degli ostacoli. Fondamentalmente questa corrente è quella che ci interessa meno. Di quelle di marea la più importante è la famosa corrente lineare, le famose correnti di flusso e di reflusso. È una corrente che si forma vicina alle coste e diventa più forte e più evidente negli stretti o tra le isole. La velocità di queste correnti varia da zero ad un massimo, attenzione qua, che viene raggiunto nei momenti intermedi tra una fase e l'altra di stanca. Meditate bene su questa cosa qua. Ci sono anche altre cose che vanno a influenzare le correnti, quindi l'andamento delle correnti. L'attrito che le correnti fanno sia al loro interno, perché ovviamente c'è differenza di densità d'acqua, quindi scorrono su di loro e tra di loro, e ovviamente anche l'attrito che fanno sul fondale marino. Un'altra cosa che le influenza è la forza di Coriolis. Vengono ovviamente influenzate dalla conformazione della zona dove si presentano queste correnti e la sua profondità. Ma attenzione, 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 le correnti vengono anche influenzate dalla pressione atmosferica. Ricordate cosa vi ho detto nel video di quando andare a pescare? Attenzione alla pressione atmosferica, ragazzi, è una delle chiavi. Una cosa molto importante da sapere sulle correnti è il fenomeno di upwheeling, che si verifica quando il vento soffia parallelo alla costa. E quindi, come abbiamo detto prima, vi ricordate il discorso dei 45-90 gradi rispetto al vento? Praticamente genera una corrente in uscita verso il largo. L'acqua che va verso il largo libera uno spazio. Quindi cosa succede? Dalla profondità sale dell'acqua fredda, che non solo porta il freddo verso l'alto, ma porta su anche dei nutrimenti in superficie. Ed è proprio questo che fa partire la catena alimentare in alcune zone, quindi soprattutto nelle cadute. Che cos'è che fa partire le mangianze? Beh, l'upwheeling è uno dei motivi per cui partono le mangianze in mare. Ma come si apprezza la corrente in barca e a che cosa ci serve nella pesca? Incominciamo la parte che interessa di più a noi pescatori. Allora, primo consiglio che mi sento di darvi è quello di osservare le mede. Molto spesso, quelle fissate con le catenarie si inclinano verso la corrente. Ma se non avete una meda nei paraggi? Beh, cercate un palamito, una rete, una nassa. Le loro calume fungono proprio come un ago della bussola per la corrente. Altro metodo semplicissimo, a barca ancorata, sia alla vecchia maniera che con un motore elettrico, calate un piombo leggero ed osservate il suo comportamento. Se utilizzerete canne sensibili, con la pratica, riuscirete anche a sentire a che profondità la corrente si ferma o addirittura cambia. Ti racconto anche il metodo di una volta, che si usava una volta. Per vedere la direzione della corrente in barca, i vecchi marinai versavano del latte o della sabbia in mare e a seconda della scia che prendeva si aveva un'idea precisissima di dove andasse la corrente. È molto importante sapere che le correnti che interessano il nostro mare mediterraneo, oltre a essere quelle di marea e di vento o di perturbazione, sono anche cicliche. Quindi vi mostro alcune immagini, poi mettete pausa, guardatevi nella vostra zona le carte, delle carte della marina militare appunto che mostrano le maree stagionali italiane. Potrebbero esservi utili. Adesso vi spiego anche perché è utile conoscere perfettamente la corrente, a parte per sapere quanto piombo andrà messo, a parte per sapere quanto andremo lontani dalla barca con un certo tipo di piombo. Ricordatevi che la corrente, così come il termoclino, ci aiutano a capire dove si posizionerà il pesce rispetto alle nostre zone di pesca. Molte specie adorano stazionare in corrente aspettando il cibo, ad esempio la ricciola. Altre tendono ad evitarle e mettersi nei giri morti per scattare in agguato al momento giusto, ad esempio la spigola, quando ci sono queste maree che escono dai fiumi, per esempio, nelle foci. Loro si vanno a mettere in zone tranquille e poi fanno un agguato e scattano dentro. Imparate a conoscere bene le vostre prede per pescare di più, ma non preoccupatevi. Sento odore di una nuova serie su YouTube sul mio canale su questo argomento. Bene, bellissimo amico, spero di averti raccontato un sacco di cose, magari anche qualcosa che non sapevi, sulle correnti marine. Ora, io ho lavorato un po' di giorni per realizzare questo video, quindi in cambio ti chiedo soltanto un like e una condivisione, cioè condividi con i tuoi amici i miei video in maniera che li possano vedere un pochino tutti. Sulle correnti credo di non aver più niente da raccontare, ma voi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!